Una mano che rotola impugnando una spada laser inizierà così l'attesissimo episodio 7 di Star Wars diretto da J.J. Abrams. Sono queste le prime indiscrezioni del set dell'episodio ambientato 30 anni dopo il ritorno dello Jedi. Il nuovo capitolo dovrebbe incentrarsi su due personaggi inediti interpretati da Daisy Ridley e John Boyega che trovano quella spada laser e capiscono che è una reliquia Jedi e viaggiando per il mondo incontrano i Han Solo e Chubecca che naturalmente riconoscono quella spada e rivelano che non vedono più i loro compagni da ormai 30 anni. Da quel momento inizierà la ricerca per trovare l'ormai scomparso Luke Skywalker, vecchio amico e maestro Jedi. Grazie a tutti.